Come funziona la certificazione tessile? Alcuni spiragli di ripresa sia nell'ambito manufattoriero sia nell'ambito dei consumi e anche lo standard Goz sembra riprendersi dopo qualche anno di un lieve calo. Io direi che il settore rinizia a svilupparsi e quindi ci sono ottimi spiragli di ottimismo. Come certificazioni lo standard Goz che sta per Global Organic Textile Standard sembra avere un certo sviluppo soprattutto nel settore tessile riguardante sia il cotone che la lana. In breve descrivendo lo standard Goz, lo standard Goz è uno standard che prende in considerazione fibre e tessuti di origine biologica, quindi lana, cotone, lino prodotti secondo il metodo biologico e contempla l'utilizzo di fibre biologiche e anche una garanzia di rintracciabilità sul prodotto finito di queste fibre biologiche e ultimamente anche dei contenuti di ecosostenibilità e sostenibilità dal punto di vista sociale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lo standard richiede alcuni requisiti ambientali, quindi il monitoraggio dei consumi energetici, il monitoraggio dei consumi idrici, il monitoraggio anche dell'utilizzo degli ausiliari chimici a basso impatto ambientale e il rispetto di alcuni requisiti sociali che in Italia sono più che altro coperti per fortuna dal contratto nazionale del lavoro e quindi da un welfare, ma questi requisiti sociali hanno una grande importanza soprattutto in aree extra UE dove questi aspetti del welfare sono contemplati ma in una maniera a volte abbastanza basilare e blanda. È uno standard, solo per concludere, che permette di partire dal campo e arrivare fino al prodotto finito, quindi ci sono già esempi in cui sia reti distributive sia grandi marchi, prestigiosi marchi tessili utilizzano il logo e lo standard GOATS per esprimere il concetto di biologicità anche nel prodotto tessile. Spostiamoci un attimo dall'Italia all'internazionale, soprattutto per un produttore di tessuti made in Italy. quali sono, quali possono essere gli sbocchi più interessanti a livello di tessile bio, biologico, quali i mercati più interessanti, come funziona anche a livello di equivalenza per l'export per i paesi anche non UE? Allora, noi come CCPB siamo presenti in Italia, in tutta l'area del Mediterraneo e ovviamente, siccome parliamo di tessile, anche in Asia, quindi abbiamo degli uffici periferici in India, Pakistan e Bangladesh attraverso i quali riusciamo a garantire un servizio, in questo caso un servizio di certificazione per gli operatori italiani che sono interessati a entrare in questi nuovi mercati. Dal punto di vista dei regolamenti, dal punto di vista legislativo, lo standard goals è molto importante perché è uno standard internazionale, quindi offre una copertura legislativa per chi voglia produrre un tessuto, una fibra o un prodotto finito tessile, non solo in Italia, non solo in Europa, non solo nei mercati occidentali ma anche in alcune zone che hanno una grossa importanza dal punto di vista tessile, come l'India, il Pakistan e il Bangladesh che in questo caso non hanno una legislazione in merito, quindi lo standard goals permette di certificare e garantire il rispetto di requisiti ambientali e sociali anche in zone dove dal punto di vista legislativo non esiste alcuna regolamentazione in merito. Benissimo, io ti ringrazio Giuseppe, dal Biofac 2015 è tutto.